Uno dei migliori Giulianova della stagione non riesce a portarsi via una vittoria contro la Folgore Veregra, che specie per quello fatto vedere nella prima frazione avrebbe meritato. La squadra di Gelsi e Pisano la gara contro i marchigiani la gioca bene, riscattando la brutta prestazione di scoppito di domenica scorsa. Eppure il punto a testa che viene fuori dal Fadini ai giallorossi purtroppo serve a poco. E dire che l'inizio è promettente, il Giulianova prova a fare la partita, anche se lo schema da piazzato di Giampaolo e Pellecchi al dodicesimo sortisce a effetti molto diversi rispetto a quando, tre minuti dopo, il numero 10, a proposito, prestazione maiuscola per lui, pennella da piazzato in area di rigore. Sbaraglia, prende il tempo alla difesa marchigiana e di testa trafigge Marani, incolpevole sull'incornata del centrale difensivo che porta avanti i suoi. La reazione veregrenza è timida, l'ex albenza e i padovani gira il destro fiacco verso Proietti, i parroni di casa giocano meglio e si vede, ma la stoccata del 2-0 non arriva, nemmeno quando Marini crossa il 26esimo da sinistra e Rufo non riesce incredibilmente a girare in porta il pallone che avrebbe messo una serie ipoteca sulla gara in favore del Giulianova. Giampaolo gioca una gara da incorniciare, al 31esimo la sua sventola dà solo l'impressione del gol e con Marani che prega perché il pallone non c'entri la sua porta. La ripresa si apre col botto, nemmeno un minuto e Giallonardo stende Pellecchi in ripartenza. Per Ruggeri non ci sono dubbi, rosso diretto e folgore in 10 uomini, ma il Giulianova non ne approfitta e al 55esimo Marini, ammonito 4 minuti prima, per il fischietto romano trattiene Mandorlini in area. Rigore e per il difensore secondo giallo è doccia anticipata. Dal dischietto pedalino non sbaglia ma eccede nell'esultanza, andando sotto il settore dei tifosi giuliesi che non la prendono affatto bene. Ci scappa quasi la rissa in campo, sedata a fatica dall'arbitro. Da questo momento in poi più folgore che Giulianova, Mannoni, minuto 67, scaglia una sassata verso Proietti che si stampa sulla traversa. Gelsi getta nella mischia Marzucco, Silvestri e Mastrilli, ma nei parroni di casa l'ultimo ad arrendersi è Giampaolo. Il numero 10 fa venire il mal di testa a Gentile, gli scappa via, entra in area e scarica verso Marani una conclusione che il portiere marchigiano disinnesca coi piedi. Ancora protesta il giallorosso all'86esimo, quando Gentile, anche lui già monito, trattiene al limite dell'area di rigore Pellecchia. Sarebbe fallo da ultimo uomo, ma per Ruggeri è tutto regolare. L'ultimo sussulto lo regala ancora Giampaolo a tempo scaduto, ma non scardina un 1-1 che a conti fatti sia la folgore può stare anche bene. Al Giulianova decisamente meno, perché la posizione in classifica rimane la stessa. Anche l'Agnonese pareggia, ma per provare la grande impresa servirebbe un deciso cambio di marcia. Visero, un pareggio è arrivato su rigore, secondo tempo una gara un po' più nervosa rispetto a tanti ammoniti, un pareggio che a voi fa più comodo rispetto a quanto non faccia per il Giulianova? Sicuramente sì, io l'ambiente lo conosco, quindi so che giocare a Giulianova non è mai facile. Anzi, devo dire che ho trovato contro un'ottima squadra che ci ha messo in grossa difficoltà. Forse noi il primo tempo non abbiamo fatto quello che dovevamo fare e loro sono usciti un po' fuori. Poi nel secondo tempo ci siamo un po' scossi e siamo riusciti poi a prendere questo pareggio che per noi è molto molto importante. Senta, Pedalino con l'esultanza aveva qualcosa? Sinceramente ha sorpreso anche me perché fino ad oggi è stato sempre un ragazzo moderato a posto quindi credo che, non lo so, sinceramente è partito così e ci sono rimasto anch'io. Non me l'aspettavo, sinceramente. Quello che avevamo chiesto ai ragazzi era di non mollare e non è facile. Non è facile in questa situazione trovare la tranquillità e l'approccio giusto alla partita perché poi subentra la psicosi della paura del passaggio, della paura della giocata in più cosa che invece oggi non è stato così. I ragazzi hanno interpretato la partita nel modo giusto e meritavano sicuramente di vincere. Mi dispiace per loro perché ci hanno messo il cuore, hanno messo l'anima e oltretutto hanno messo la testa che è la cosa più importante. Dove dobbiamo migliare è sotto l'aspetto psicologico che una volta che magari le cose non si mettono per il vestito che vogliamo noi poi abbiamo difficoltà a riprendere in mano le redini del gioco però le prestazioni come queste ti danno la consapevolezza che comunque puoi giocartela con tutti.